Come selezionare tutte le clip da un punto preciso della nostra timeline in poi senza dover selezionare tutto, soprattutto quando abbiamo timeline molto ricche rischiando di perderci dei passaggi. Te lo spiego in questa puntata di SOS Premiere, il format targato Onita Studio che punta a risolvere un singolo problema in Adobe Premiere senza farti perdere tempo in tutorial lunghissimi. Sono Antonio e ti do il benvenuto in SOS Premiere. Come al solito voglio assicurarmi che quella che sto per darti sia la risposta al tuo problema quindi fammi capire, hai una timeline pesantissima, lunghissima, enorme, piena di clip, sacco di livelli magari sei molto zoomato e da un certo punto in poi vuoi selezionare tutte le clip magari per spostarle massivamente e lasciare un buco. Che succede? Che con tantissimi livelli, tantissime clip, ti devi mettere a selezionare, ci metti tantissimo ed è molto impegnativo rischiando appunto di perderti pezzi di timeline e di livelli. Ti dico come farlo, è veramente veramente semplice, c'è uno shortcut per questo. Spostiamoci su Premiere e te lo faccio vedere. Eccomi qua su Adobe Premiere, ti ho aperto un progetto di un nostro cliente di qualche settimana fa. Questo è un progetto abbastanza ricco, ci sono 8-9 tracce, grafiche, testi, livelli di regolazione, sottotitoli, c'è un po' di tutto. Facciamo finta, ecco mi porto avanti, mi zoomo. Ecco, arrivo a questo punto qua. Facciamo finta che io da questo punto in poi voglia selezionare tutto per spostare. Generalmente che cosa mi viene da fare? Mi viene da fare questo. E stare tre ore a spostare, con il rischio che magari qua sopra ci sia un elemento piccolo piccolo, una foto, un frame, un sottotitolo, un testo, una grafica che mi sto scordando. Ecco, questo è un metodo assolutamente dispendioso. Potrei sicuramente tornare indietro rimpicciolando la timeline e fare qualcosa di questo tipo, ma soprattutto il rischio magari di non essere preciso qua. Adesso chiaramente sono preciso perché ho tagliato apposta. Però ecco, c'è una soluzione a tutto questo. Ti faccio vedere come poter fare. Premi A, compariranno queste frecce e queste frecce ti serviranno per cliccare il punto esatto dopo il quale vuoi selezionare le clip. Come vuoi vedere è successo esattamente quello che stavo cercando di fare con un solo clic. Tutte le clip da quel punto in poi si sono selezionate e io adesso tornando con V posso tranquillamente fare quello che volevo fare. Chiaramente è rimasto attaccato il mascherino colorato qui in basso, ma questo non è non è importante. Ok? Stessa identica cosa la possiamo fare da un punto indietro e il tasto lo trovi sempre qua nella tab degli strumenti che prima non ti ho fatto vedere perché ho lavorato con lo shortcut, però ecco strumento selezione tracciato avanti e qui invece troviamo anche strumento selezione tracciato indietro, shortcut shift più A. Le freccettine sono verso l'indietro e quello che succede è esattamente l'opposto. Anche qua posso spostarmi come voglio. Se ho contribuito a farti scoprire una funzione di Premiere che può sbloccarti veramente un piccolo piccolo bug che abbiamo quando montiamo però ti fa perdere un sacco di tempo e soprattutto rischia di farti sbagliare perché se ti perdi una clip è veramente un disastro. Ecco lasciami un like e sono sicuro che questo piccolo tips ti potrà aiutare nella tua carriera da montatore. Lasciami nei commenti anche altre perplessità e altri problemi che vivi con Premiere perché potrei realizzarci un SOS Premiere apposta su quella tua criticità. Per non perderti tutti gli altri SOS Premiere ti consiglio di iscriverti al canale. Io sono Antonio, grazie per l'attenzione che mi ha dedicato. Ci vediamo in un prossimo video.